Inizio di Cellular Magazine siamo allo stand di IMAXO, sempre al Mobile World Congress con la novità che si chiama MK241. Questa è la nuova proposta di IMAXO a 79 euro, più nel mercato italiano. Che cos'è? È un picture phone, tasti grandi, anche particolarmente adatto per il serio, ma soprattutto è uno smartphone, perché all'interno di questo teletro è un saccaio S2.5, che è un sistema operativo a tutti gli effetti, derivato da Android e sul quale Android ha investito tanti soldi. Volte, quindi VoiceOver LTL, 4G, la voce passa attraverso il 4G. Cristian che sta inquadrando il display, allora vi mostro innanzitutto, qua c'è un vero e proprio store, questo è il simbolo dello store di KaiOS, dove trovate tutto il pacchetto di applicazioni, ma su questo telefono c'è anche Facebook, come avete visto, Twitter, c'è la Gmail, che è la mail di Google. Ci sarà presto, con la massima qualità entro il mese di marzo, anche WhatsApp, e sarà un WhatsApp aggiornabile. Quindi tutto quello che potete utilizzare su uno smartphone, con le sembianze di feature phone, ma con la potenza di uno smartphone. Nel dettaglio qua abbiamo un display da 2,4 pollici, 512 MB di RAM, perché 512 MB? Potreste pensare poco, perché il sistema operativo è più agile, più veloce e soprattutto più leggero. I tasti grandi li potete vedere, non manca una fotocamera, adesso vedete, qui l'abbiamo svalicato dallo stand. Facciamo vedere anche la parte posteriore, eccolo qua. Quindi abbiamo una camera anteriore da 0,3 e una 2 megapixel sulla parte esterna. Non vi ho detto ancora, Bluetooth 4.1, GPS, giochi, perché comunque a tutti gli effetti avrete uno store. E una memoria, come ho detto, RAM di 512 MB e un ROM di 4 GB. Il prezzo, l'abbiamo già detto, chi arriva a WhatsApp, l'abbiamo già detto, è sicuramente una proposta interessante, di un telefono molto easy to use, potremmo dire. In questo momento non vi possiamo far vedere lo store, per un semplice motivo, non siamo collegati alla rete, ma vi abbiamo fatto vedere l'icona e vi faremo presto vedere il confinamento, anche perché lo riceveremo presto in prova e vi mostriremo anche il telefono con WhatsApp. Come possiamo definirlo, Massimo, questo? Un feature phone, uno smartphone? Io l'ho definito come un feature phone con la potenza dello smartphone, con un vero e proprio sistema operativo, che è Caio S, che tra l'altro è veramente un sistema operativo che sta spaccando, come si dice oggi. Bene, quindi dallo stand, Massimo è tutto, lo attendiamo in redazione in prova. A questo punto, penso, possiamo veramente salutare, questo sarà uno degli ultimi video, ma vi diamo appuntamento per approfondimenti, articoli e altri video sul nostro canale di Cellulare Magazine.